La soddisfazione per un contadino è quella di vedere crescere il suo prodotto, il suo seminato. Io sono figlio di contadini, i miei nonni, i miei genitori hanno sempre lavorato la terra e proprio dalla mia famiglia che abbiamo ereditato il grano di Iervicella. La Iervicella è fatta con una spiga molto grande, con l'acine pure grande. Era bella, rotonda la spiga, era rotonda piena di grano. Diciamo che i grani antichi hanno dei pregi perché non hanno subito quelle modificazioni che la genetica e comunque le coltivazioni industrializzate hanno apportato. Il grano antico ideale assomiglia molto allo Iervicella. Siamo convinti poi che lo Iervicella rappresenti un'opportunità non solo per il consumatore finale ma anche per i produttori che hanno la possibilità di coltivare in un territorio che storicamente è ideale per questo tipo di coltivazione un grano speciale. Grazie a tutti.